Viale Varese ancora al centro delle polemiche della politica comasca. Il Comune realizza attraverso un proprio progetto dei nuovi parcheggi in Viale Varese. È quello che chiede la mozione presentata da Partito Democratico e Svolta Civica. Se l'amministrazione comunale procedesse in proprio con la realizzazione di un'opera di ampliamento dei parcheggi, otterrebbe il risultato di aumentare gli introiti derivanti dalla sosta, di mantenere la piena disponibilità della preziosa area e di poter investire maggiori introiti nella riqualificazione complessiva della zona. Inoltre non si esaurisce la polemica nata nei giorni scorsi sulla mancata convocazione della Commissione Seconda per illustrare il progetto protocollato in comune, a firma degli ingegneri Monza, Tavola e Zizolfi. In un comunicato congiunto, Civitas, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Rapinese, Sindaco e Svolta Civica contestano il diniego della Presidente Patrizia Maesani. Vietare questo approfondimento è un atto gravissimo da parte del suo Presidente, in quanto essa avrebbe apportato informazioni particolarmente utili per una valutazione complessiva sul futuro di Viale Varese, area strategica e di straordinario interesse per la città. A rispondere alla diretta interessata che dice Il progetto dei tre ingegneri è stato protocollato al settore strade e mobilità con oggetto contributo progettuale e quindi è del tutto svincolato da un preciso procedimento amministrativo, spiega Maesani, che lancia una proposta. L'esame del progetto potrebbe essere comunque effettuato nell'ambito di un incontro pubblico, con ciò garantendo il massimo confronto politico senza violare i principi base del diritto amministrativo. Grazie a tutti.